Ciao a tutti, sono Antonio Savinelli e mi sono lavoriato nel 2017 in biotecnologie molecolari industriali. Per quanto riguarda il mio percorso da studente non posso che essere soddisfatto. Personalmente ho scelto di fare BMI perché ero interessato a corsi come ingegneria proteica, enzimologia e produzione di proteine recombinanti. Inoltre, arrivando da una realtà diversa come quella di Milano Bicocca, ho potuto notare che la qualità degli insegnamenti è perlomeno di pari livello. Inoltre, essendo un ambiente più piccolo, più familiare, c'è anche una maggiore disponibilità dei professori a fornire chiarimenti su esami o quant'altro. Dopo la laurea ho avuto la fortuna di poter continuare a collaborare con il laboratorio nel quale avevo svolto la tesi. Dopodiché ho deciso di intraprendere un percorso diverso, di guardarlo al di fuori dell'ambiente universitario. E fortunatamente sono riuscito a ricevere un'importante offerta di lavoro nel giro di un mese e mezzo circa. Quindi sicuramente la formazione che ho conseguito durante il corso di laurea e durante il periodo come borsista, all'interno sempre dell'università, mi ha permesso di poter trovare lavoro abbastanza facilmente. Grazie. Grazie.